Ho conosciuto una ragazza che si chiama il tuo nome del suo ragazzo, Anna e lei mi ha raccontato una storia mi ha raccontato una storia e mi ha detto ma perché tu stai qua? Stai qua, ho fatto una cosa, non aveva un altro consiglio ma quando vedo gli educatori dopo ho saputo che Anna era stata arrestata in possesso di un grosso caso che nessuno faceva e poi ho fatto una cosa e proprio davanti, in un'epoca in zona Napoli Nord ho detto, non c'erano tante battute con una polizione, con una polizione, con una morose mentre della droga è proprio in mezzo, la droga è una legata quindi, che dice, se non c'è la polizia, non c'è la polizia, non c'è la polizia è sempre più di umore, tutto questo materiale di cose che chi fa tutto lo vuoi conoscere ovviamente l'è stata arrestata e si ha con tutta roba mia ma non c'erano fatte una era fina venne e soprattutto non ha mai, ovviamente, non ha mai fatto nessun nome e così da questa parola e avevo un risuardo molto introscente molto bene è quello che mi ha costituito di più è stata l'attuale realtà quando, ecco, si chiama, portavola si chiama, si non c'è, un gergo giornalistico si chiama Home of the Tart Tra l'altro siamo pari conti con tante cose. Probabilmente i suoi datori di lavoro erano sui parenti e oggi hanno un'orrore, no? La ricostruzione, la violenza, l'indicciario della vita. Ma c'è proprio questa grande donna che è la lealtà e la libertà, che si esce di farlo. Quindi immaginate se tutta questa grande eredità, una sinistra, che è una cosa più bella, mi ricorda così, come vede la roba in mezzo alla pianta di spazio. Dopo ho scritto questo retto per lei e Cristina, che ha citato di interpretarlo per loro. Come mi piace di amici? Edith, mi piace di amici. Con la via di amici. Ho innamorato, mi piace di amici. Ho innamorato, mi piace di amici. Ho innamorato, mi piace di amici. A vuol dire che è lì. A vuol dire che è lì. E vado, vado, vado. E vado. E vado, vado. un po' forza lì lascia venga ricordando venga ricordando è come a me piace sentiamo venga ricordando a giocare un ruolo di struttura per scrittare la sede e già mi vede tentare la sede togli occhiali è italiano venga ricordando dei due ore non ci vuole dormire ciao io voglio stare a casa venga un quarto ordinato in mezzo a cento che dice sempre il giorno è buonasera e non l'allucamato ma vai vai e non l'allucamato e non l'allucamato nel posto dove voglio andare io ci stanno i giardini e i criaturi vanno all'azio e le maestri sono tranquilli sono bravi e si invadono tante cose ecco ma mi piace un piano a mia figlia ci devo fare fare le lezioni di piano e che le prese stelle in mano nonno longa e guardia da me mi piace 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 Lascia la testa, capite la bozzola, non ci sono da ciò, ma andiamo a chiamare. Sì, andiamo a chiamare. Oltre a passare a chiedere. Oltre a passare. Oltre a passare. Oltre a passare. Grazie.